Ciao principini, visto che mi avete inondato i social di richiesta, facciamo la regina Andiamo con gli acquerelli, visto che ha uno stile molto delicato, come del resto lo era lei, immagino Cerchiamo di renderlo il più possibile personale ed espressivo Ora, non so perché, ma secondo me è veramente difficile ritrarre delle persone anziane E con questo niente, è giusto per buttare una lamentela in mezzo Rifinisco un po' con le matite che aiutano sempre Mischiare i materiali secondo me è sempre cosa buona e giusta E facciamo un saluto alla regina, sono contento di averla fatta, tutto sommato I materiali sono nel link in descrizione